Come state ragazzi e ragazze? Secchioni, a me gli occhi. La faccia può andare in calma. Roberto Bolle. È un rapper. Un primo secchione non si scorda mai. La campagna con quali regioni confina? Cagliari. La Pupa e il Secchione Show. Martedì, in prima serata, su Italia 1. Da oggi so che esiste il Molise.